E' partita questa mattina da Via Togliatti la maxi operazione di pulizia delle caditoie su tutto il suolo pubblico comunale annunciata dal sindaco Biancani e dall'assessorato alle manutenzioni di Mila della Dora. Un'operazione di pulizia e spurgo tombino per tombino volta a prevenire facili allagamenti stradali in vista dei rovesci temporaleschi del periodo autunnale alle porte. L'obiettivo è quello di intervenire su 250 caditoie a settimana, un'operazione invocata da tanti quartieri anche con costanti segnalazioni Rossini TV. Gli operatori di Marche Multiservizi hanno cominciato il piano di pulizie dal quartiere di Villa San Martino dove si continuerà per tutta la settimana con un programma di interventi concentrato dalle 6.30 alle 12.00. Ogni venerdì poi la Comune annuncerà le vie interessate dagli interventi la settimana seguente avvisando in anticipo i residenti per lasciare liberi i tratte di strada. Comune e Marche Multiservizi continueranno ad interfacciarsi per cadenzare la scaletta di priorità di interventi sia per le caditoie sia per le tubature ostruite.